Buonasera, spettacolare furto con scasso. Questa notte i danni della gioielleria Fabiani all'interno del centro commerciale Conad ad Arma di Taggia. I ladri per introdursi nell'esercizio hanno sfondato l'ingresso dell'ipermercato e la sala cinisca della gioielleria con un auto. Vediamo. Furto con scasso alla gioielleria Fabiani all'interno dell'ipermercato Conad ad Arma di Taggia. Un'auto, una BMW Serie 1, ha sfondato l'ingresso dell'ipermercato e dopo aver attraversato all'interno della struttura ha sfondato con l'auto. La sala cinesca sul caso stanno indagando i carabinieri. Stando ai primi rilievi svolti appunto dai carabinieri, la vettura ha sfondato uno degli ingressi laterali del centro commerciale e dopo aver scorazzato all'interno ha sfondato la sala cinesca della gioielleria Fabiani, trafugando gioielli e preziosi per un importo ancora da valutare. L'auto che risulta ruvata è stata poi abbandonata all'interno dello stesso supermercato. Pare che al momento del loro rocambolesco ingresso nella struttura, al piano delle boutique, i ladri hanno accelerato per distruggere la serranda dell'esercizio commerciale. I malviventi, una volta all'interno della gioielleria, hanno frantumato alcune vetrine. Sul posto per i rilievi del caso, questa mattina sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arma di Taggia, coordinati dal capitano Paolo di Alescandris. L'ingresso del centro commerciale è già stato riparato, la porta scorrevole è stata sostituita. Eccola qui la porta d'ingresso sfondata dai malviventi, è già stata rimossa e qui c'è quanto è stato danneggiato. Ora, al vaglio degli inquirenti, per l'esatta ricostruzione del furto con scasso, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I filmati sono a disposizione degli inquirenti. La vettura utilizzata del ladri è stata posta sotto sequestro per essere esaminata. Ingenti i danni che ha subito la gioielleria. E proseguono le indagini delle forze dell'ordine in merito all'episodio che ha visto coinvolti alcune notti fa nell'entroterra imperiese, due ragazzi ed una tredicenne che avrebbero consumato un rapporto. Anche se la minore fosse stata consenziente, come sembra abbia dichiarato, il reato di violenza rimane betale trattandosi di una minore dei 14 anni. Le indagini sono ora condotte con grande cautele per cauzione vista l'età della ragazza. Le genti della Polizia di Ventimiglia hanno individuato a Bordighera una casa di prostituzione ed hanno sottoposto ad indagine giudiziaria la proprietaria per favoreggiamento della prostituzione e cinque donne dominicane per favoreggiamento personale. L'operazione ha dato immediato positivo riscontro ad alcune segnalazioni giunte da residenti che avevano notato il frequente ed anomalo anderiviene di uomini a tutte le ore del giorno e della sera. L'abitazione era stata affittata in nero dalla proprietaria. Gli agenti di Polizia, anche fingendosi clienti, hanno verificato l'effettiva vericità delle segnalazioni ricevute. Alcuni clienti già individuati sono stati ascoltati in qualità di testimoni. La proprietaria dell'immobile dovrà rispondere anche della mancanza di un regolare contratto d'affitto e del denaro ricevuto in nero. Le indagini e gli accertamenti della Polizia proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi. I carabinieri di ospedaletti hanno denunciato per recettazione un 32enne di Bordighera. L'uomo è stato trovato in possesso di un'auto rubata poche ore prima in via Pasterno alla città delle Palme. Una volta scoperto ha messo la propria responsabilità dichiarando di aver commesso il furto per poter andare a lavorare come in bianchino a San Biagio della Cima. All'interno della vettura i militari hanno infatti ritrovato diversi pennelli e secchi utilizzati per svolgere il lavoro. Sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona agli occupanti di un'auto che si è capottata lungo la via Aurelia a Bergeggi. Sul posto sono intervenute automedica, due ambulanze della Croce Bianca di Sputone e della Croce Rossa di Vado insieme ai vigili del fuoco di Savona. Nonostante la spettacolarità del sinistro, le persone che viaggiavano in auto non hanno fortunatamente riportato lesioni gravi. L'ultimo pagina è partito anche in Liguria il dibattito interno dal centro-destra avviato a livello nazionale da Silvio Berlusconi sull'utilizzo o meno delle primarie per la scelta del candidato da presentare contro Matteo Renzi alle prossime elezioni politiche. Sulla questione infatti ora è intervenuta anche il presidente della regione Liguria Giovanni Torri. Anche in Liguria si è allargato il dibattito interno al centro-destra sull'opportunità di utilizzare le primarie per le prossime elezioni politiche nazionali. Tutto è nato da Silvio Berlusconi che ha detto un secco no a questo strumento perché è troppo facilmente manipolabile. Ora sulla questione è intervenuto anche il presidente della regione Giovanni Totti, uomo di fiducia dell'ex premier. L'unità della coalizione di centro-destra è un bene essenziale per mandare a casa Renzi, ha detto il governatore Ligure, che giudica positivamente le primarie ma solo se non si è trovato un accordo politico precedente tra le varie forze dell'alleanza. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che sulle primarie stiamo dicendo sostanzialmente la stessa cosa, forse con qualche sensibilità appena diversa. Io non ho mai sostenuto che le primarie siano andate bene, anzi, come è noto qua in Liguria, le primarie del PD sono andate particolarmente male. Credo che le primarie possano essere uno strumento, come si può dire, di appello o di cassazione ove le forze politiche non trovino un accordo prima. È abbastanza evidente che se c'è un accordo su un candidato, ovunque questo candidato si debba presentare, questo candidato sarà lui. Non è che si va in piazza a fare le primarie per fare esercizio ginnico. Ma io credo che siccome l'unità della coalizione è comunque un bene essenziale per mandare a casa Renzi e che tutte le forze politiche si devono impegnare in questo senso, che ci debbano essere delle regole di ultima istanza ove un accordo politico non si raggiunga per evitare di correre separati. Tutto qua. Non è che, come dire, le primarie debbano diventare lo strumento principe di selezione dei candidati perché sarebbe abdicare il ruolo delle forze politiche. Le forze politiche decidono programmi, si accordano, trovano gli uomini migliori, selezionano la classe dirigente. Questa è evidentemente funzione dei partiti politici e delle forze politiche più in generale. Dopodiché, siccome io credo che il Centro-Est Unito abbia dimostrato una capacità di stare in campo e di vincere come è successo in Veneto, come è successo in Liguria, come è successo in molti comuni, credo che si debbano trovare quegli strumenti e quelle regole e per cui se c'è una controversia all'interno della coalizione si sana senza dividerci come purtroppo è successo negli ultimi regionali. Saranno 22 i comuni della provincia di Imperia che potranno usufruire dei servizi messi a disposizione della regione per consentire la conversione dei piani regolatori in PUC. La giunta regionale è infatti stabilita di fornire assistenza tecnica ai comuni in Liguria più piccoli che a livello organizzativo ed economico avrebbero difficoltà ad aggiornare i propri piani urbanistici. Sono state approvate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, Marco Scaiola, le linee guida per i comuni Liguri per consentire la conversione dei piani regolatori in PUC, i piani urbanistici comunali. Questo in modo più rapido e semplice. Si tratta della metodologia e del codice tecnico che potrà essere utilizzato da quei comuni che ritengono ancora valido il proprio PRG, ma che intendano adeguarlo e renderlo conforme alle normative ambientali e di difesa del suolo. Questo consentirà anche ai comuni Liguri, grandi e piccoli, un considerevole risparmio di tempo e di risorse economiche, in quanto il piano regolatore viene recuperato, aggiornato e riutilizzato come PUC. Inoltre la regione metterà a disposizione le sue strutture per fornire assistenza tecnica per effettuare tutta l'attività necessaria. Il Dipartimento Urbanistica della Regione Liguria sosterrà infatti i comuni più piccoli con risorse limitate, sia a livello economico sia di personale. Le strutture della pianificazione territoriale e dell'urbanistica della regione potranno fornire assistenza tecnica mediante digitalizzazione informatica delle cartografie e aggiornamento delle informazioni territoriali, oltre alla redazione della normativa tecnica e assistenza per la formalizzazione degli atti deliberativi. I comuni Liguri che potranno usufruire di questa opportunità sono complessivamente 113. Di questi 87 sono di piccola e media dimensione, al di sotto dei 2000 abitanti, di cui 22 in provincia d'Imperia, 18 in provincia di Savona, 11 nella città metropolitana di Genova e 5 in provincia della Spezia. Diventerà operativo tra un mese il nuovo sistema decisionale per le allerte meteo che unificherà in capa d'arpa le previsioni ed anche le emissioni dell'allerta. L'obiettivo è quello di integrare al meglio le procedure e di arrivare ad una unificazione tra Centro Meteo, ARPAR e settore della protezione civile regionale. Sentiamo l'assessore alla protezione civile Giacomo Gianpedroni. Assessore, in cosa consiste questo nuovo sistema decisionale per le allerte meteo che diventerà operativo entro breve? Abbiamo fatto un primo passaggio semplificativo nella gestione delle emergenze e delle allerte. Abbiamo stabilito che ARPAR, che fa ovviamente le previsioni meteo in vista dei temporali e quindi delle allerte successive, dia anche l'indicazione di che tipo di allerta vada emesso. Dopodiché la protezione civile farà tutta la gestione della fase di allerta e della fase emergenziale. Abbiamo quindi tolto quel passaggio che dava una discrezionalità alla protezione civile nell'interpretazione del bollettino meteo che ci arrivava da ARPAR. Mi sembra qualcosa che va nel senso migliorativo, nel senso semplificativo anche in vista di settembre quando attueremo poi il nuovo sistema di allertamento con i tre colori, sostituendo quello che oggi è la classica allerta 1 e allerta 2. L'obiettivo è quindi quello di velocizzare le procedure in caso di emergenza e di essere sempre più operativi? Essere più operativi, cercare di semplificarle anche per quei sindaci che sono sui territori, sono in prima linea e soprattutto essere rapidi. Questa eliminazione di un passaggio intermedio credo che possa garantire anche maggiore rapidità, ma anche maggiore attenzione a quelle che sono delle previsioni molto particolari, dalle quali ovviamente va emesso poi la decisione di uno stato meno di allerta e quindi sono decisioni molto tecniche che è giusto che faccia chi è competente per quella materia. Noi in questo senso stiamo lavorando e credo che nei prossimi mesi tutto questo passaggio possa anche essere ovviamente funzionale al sistema di protezione civile rigore. Come Ventimiglia anche Sanremo si doterà delle tanto temute ganasce che bloccano le ruote dei veicoli in sosta vietata, un modo per contrastare l'abitudine specialmente degli automobilisti indisciplinati provenienti dalla Francia di non pagare le multe approfittando proprio del fatto di essere stranieri. Basta i furbetti delle multe, che specialmente quelli provenienti dalla vicina Francia non danno peso alle sanzioni ricevute perché tanto non le pagano. La procedura per richiederne il rispetto è infatti complicata e quindi il rischio delle multe non è considerato un valido deterrente contro i trasgressori delle regole del codice della strada, in particolare per quei che riguarda i parcheggi. Ora però tutto questo cambierà, specialmente a Sanremo e a Ventimiglia, dove sono in arrivo le tanto temute ganasce. Nella città di confine in realtà sono già presenti e nei giorni scorsi sono già apparse sulle ruote di alcuni automobilisti indisciplinati che per liberare il proprio veicolo hanno dovuto pagare seduta stante non riuscendo più così a farla franca. Infatti grazie al nuovo sistema il proprietario del mezzo sarà obbligato a pagare la multa per riavere il veicolo. Stesso discorso a Sanremo, dove nel nuovo appalto per la rimozione dei veicoli in sosta vietata è stato ora inserito anche l'uso delle ganasce. Forse così gli automobilisti, o meglio certi automobilisti, diventeranno più civili e soprattutto la polizia municipale eviterà di dover elevare multe che poi nessuno pagherà. Quindi da un lato maggior senso civico e rispetto delle regole e dall'altro, per chi sarà ostinato nel suo essere un trasgressore, almeno la certezza della punizione. E dopo l'ingresso in giunta di Simone Vassallo, firmato ieri dal sindaco d'Imperia Carlo Capacci, ci sono altre novità nell'esecutivo d'Imperia. L'assessore Nicola Podestà, che fino a poco tempo fa si è occupato di ambiente, ha ricevuto la delega alla cultura. Podestà verrà anche la delega all'università e manterrà educazione ambientale e osservatorio meteorologico. Si completa così il quadro dopo le dimissioni di Paolo Strescino, che aveva anche lasciato sport e manifestazioni, ora affidate a Vassallo. 940 mila euro del fondo della non autosufficienza per il progetto Meglio a casa saranno destinate alle persone fragili in condizioni di criticità per le dimissioni protette dall'ospedale, delle persone anziane e soprattutto prive di una rete familiare. A proporlo in giunta è stata Sonia Viale, Assessore Regionali alla Sanità. Di questi, oltre 130 mila euro saranno destinati al distretto 2 del Comune di Sanremo. Le dimissioni protette soprattutto per le persone anziane sono la strada preferibile da percorrere per ridurre i tempi di ricovero per cui pazienti, che pur presentando condizioni di salute stabili, necessitano di un'assistenza perché fragili dal punto di vista familiare e sociale. Diminuire le fermate sulla linea Pisa-Firenza-Roma per velocizzare il collegamento ferroviario tra la Liguria e la Capitale. Sarà questa la richiesta dell'assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi e ai trasporti Gianni Berrino alla Regione Toscana per consentire almeno un collegamento al mattino ed uno alla sera con un tempo di percorrenza di tre ore e un quarto. La volontà è quella di rendere competitivo il collegamento su ferro in termini di tempi con quell'aereo anche per avere maggiore potere di contrattazione con Alitalia per la tratta Genova-Roma. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo. e torniamo ad occuparci della festa della cucina bianca di Mendatica che ha riscosso un notevole successo di pubblico. Alla manifestazione sono intervenuti anche il vicepresidente della Regione Sonia Viale del consigliere regionale Alessandro Piana e il presidente della provincia d'Imperia Fulvio Nato. Sentiamo. Ancora una volta incontriamo in queste feste dei nostri paesi il consigliere regionale Alessandro Piana un affezionato al territorio, potremmo dire che è un territorio che offre sempre spunti di festa ma anche di turismo sicuramente. Sì, come dicevi bene tu sono un affezionato che non potrebbe essere altrimenti già in passato sono venuto diverse volte anche con tempi peggiori di quello di oggi perché oggi tutto sommato si sta anche bene si gode finalmente un po' di fresco noi che siamo gente della costa e trovarsi oggi qua è intanto una bella manifestazione ogni anno sempre più riuscita e lo dimostra il numero di partecipanti e poi è un piacere perché ci si ritrova vecchi amici nuovi amici e si ritrovano anche quelle tradizioni e quelle dal punto di vista culturale Quei sapori possiamo anche dire Sì, quei sapori che come dice qualche d'uno riempiono più prima i cuori che gli stomaci Fabio Nato, presidente dell'amministrazione provinciale d'Imperia è una provincia che insomma seppur possiamo dire tartastata a livello centrale è anche tagliata in tante parti in tante competenze cosa che ci fa anche un po' preoccupare non vuole mancare comunque di essere presente sul territorio quasi a volersi attaccare ancora con più forza a queste terre che hanno bisogno di sostegno è un piacere innanzitutto essere qua questa sera ed è anche un dovere un dovere nel senso direi alto del termine perché comunque in questo momento di difficoltà di un ente ma di difficoltà anche di un territorio difficoltà degli amministratori comunali perché ricordiamoci che le difficoltà che sono appunto delle province sono anche le difficoltà dei comuni dei piccoli comuni è importante essere vicino ma anche un piacere come dicevo a iniziative come quelle di questa sera che si ripetono ormai da anni e un plauso va all'amministrazione comunale di Mendatica sindaco in testa che nonostante le ridotte risorse sia umane che economiche riesce sempre a proporre delle iniziative importanti come quella di questa sera coinvolgendo tanta gente portando tanta gente sulle nostre montagne e questo è un valore aggiunto l'ennesimo valore aggiunto di questa terra che questa sera la festa sappiamo bene a che cosa è dedicata la cucina bianca quindi una cucina a base di formaggi di latte, di burro, di patate cioè quindi un tipo di alimentazione ben diversa da quella per esempio delle valli olivate o da quella diciamo della costa quindi è di nuovo un segnale di un territorio seppur piccolo che sa proporre tanti spunti diversi anche da un punto di vista enogastronomico oltre che paesaggistico è un territorio ripeto difficile è un territorio complicato ma un territorio affascinante e coloro che come gli amministratori di Mendatica dei piccoli comuni in generale fanno una fatica incredibile per valorizzarlo questo territorio meritano di essere assistiti in qualsiasi modo e anche solo da un punto di vista diciamo di una presenza fisica che comunque vuole avere un significato che va al di là appunto della presenza stessa Sogna Viale vicepresidente della regione è un piacere incontrarla qui a Mendatica perché abbiamo visto anche diversi assessori c'è un interessamento di questa regione per questo territorio ed è una cosa importante perché questo territorio ne ha bisogno comunque scoprire le nostre bellezze si fanno sempre tanti chilometri per andare a ricercare delle meraviglie nel mondo e le abbiamo in casa Mendatica è una di queste la cucina bianca poi delle specialità di una volta i ricordi della cucina delle nonne e conosciamo un po' di più la nostra terra e amiamola di più Amiamola di più conserviamola anche di più bisognerà anche cercare di sostenere questo territorio questi comuni queste amministrazioni sempre più in difficoltà Dobbiamo difenderli da una politica nazionale che considera i comuni i piccoli comuni come dei semplici esattori invece sono dei presidi sul territorio il sindaco è un eroe che senza risorse difende i cittadini è il primo interlocutore quando una famiglia una persona ha bisogno e invece questo governo centralista non cambia mai e continua veramente a vessare e a tagliare risorse e si avvicina l'appuntamento con l'Expo della Valle a Roche è giunto alla terza edizione il programma dal 4 al 6 settembre a parlarci di questo appuntamento oggi è Augusto Manfredi dell'Associazione Italiana Sommelier Augusto Manfredi dell'Associazione Italiana Sommelier tra l'altro con una nuova spilla sulla giacca pronti per l'Expo della Valle a Roche a 4, 5, 6 settembre sì la spilla che ho sul bavero della giacca è la spilla dei 50 anni di Associazione Italiana Sommelier fondata nel 1965 e ha assunto un ruolo da protagonista nella valorizzazione e nella diffusione della cultura del vino ovviamente abbiamo sempre collaborato con l'Expo della Valle a Roche è Valle a Roche che presenta dei prodotti di nicchia prodotti di alta qualità soprattutto ovviamente nei vini e durante questa Expo verso l'ora di cena e quindi con la cena verranno proposti piatti tipici e abbinati con i nostri vini e quindi voi seguirete diciamo il pubblico gli appassionati per consigliare anche il vino migliore saranno vini tutti allo stesso prezzo quindi messi in parità diciamo ovviamente ognuno con le sue differenze certamente queste piccole differenze che verranno sicuramente illustrate e queste piccole differenze che faranno preferire un piatto ad un altro quindi soprattutto l'abbinamento giusto tra piatto e vino certamente l'abbinamento che è il diciamo la summa di tutta la conoscenza sulla degustazione del vino e ovviamente sarà la prova anche più difficile ma più entusiasmante per l'abbinamento appunto con il piatto quindi sarà un modo non solo per degustare ma per capire anche come gustare meglio i piatti della tradizione e i vini del territorio certamente perché questi hanno un legame molto molto forte molto un legame importante e quindi appunto verranno fatte conoscere queste caratteristiche sia nel cibo che nel vino un coinvolgimento naturalmente di tutte le aziende del territorio sia per i cibi che ovviamente per i vini certamente perché abbiamo anche nella gastronomia della nostra zona abbiamo delle chicche che sono molto interessanti dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco terza edizione dell'Expo della Valla Roscia i piatti della tradizione si incontrano con i vini del territorio ogni giorno nella suggestiva cornice dei portici degustazioni di ricette tipiche accompagnate da ormeasco vermentino e pigato Expo della Valla Roscia a Pieve di Teco dal 4 al 6 settembre nel cuore del Polo Olivicolo e centro della dieta mediterranea grande spettacolo di sport ad Arma di Taggia dove si è svolto il trofeo Croceverde le due torri una manifestazione che ha unito nuoto e corsa alla manifestazione i suoi eventi hanno preso parte circa 200 persone vediamo il servizio con le immagini di Smart Web giornata all'insegna del divertimento e dello sport ad Arma di Taggia per il trofeo Croceverde le due torri la manifestazione che ha riscosso un grande successo con la partecipazione di circa 200 concorrenti tra turisti bambini e atleti si è tenuta nella piazza dedicata a Tiziano Chierotti con la cornice della spiaggia comunale antistante la giornata è iniziata alle 10 e mezza con la partenza del Miglio Marino una competizione di nuoto in mare della distanza di un miglio ovvero quasi due chilometri alla quale hanno partecipato 60 atleti partendo dalla spiaggia dell'Arma Pesca e percorrendo avanti e indietro tutto il litorale della spiaggia di Arma il pomeriggio dedicato ai bambini con Baby Dance animazione e la Baby Beach Marathon una maratona esclusiva per i più piccoli divisi per fasce di età che si è svolta interamente sulla sabbia alle 18 e 30 si è dato inizio al trofeo vero e proprio le due torri nuota e corri una competizione molto particolare di nuoto e corsa alternata dove hanno partecipato più di 60 atleti che si sono cimentati in questo biathlon la gara prevedeva infatti 300 metri di nuoto e 3 chilometri di corsa e poi nuovamente 300 metri di nuovo e altri 3 chilometri di corsa un'attività per veri amanti dello sport insomma la giornata si è conclusa con la premiazione dei primi tre uomini e delle prime tre donne dell'imiduale oltre alla staffetta coppie in campo maschile la vittoria è andata a Daniel Polizzi mentre Vittoria Bergamini ha trionfato tra le donne la classifica della staffetta è stata invece conquistata dalla coppia Lucchetta Figaroli alla competizione hanno partecipato anche il presidente dell'associazione Arma Pesca Fabrizio Daldi ed il delegato allo sport del comune di Taggia Mirko Praticò nel contesto della manifestazione si è tenuta come evento collaterale anche la gara di castelli di sabbia realizzati nelle diverse spiagge del litorale la manifestazione che ha quindi unito gioco sport e mare è stata organizzata dalla Croce Verde di Arma di Taggia e patrocinata dal comune di Taggia ed Area 24 con la collaborazione dell'associazione Arma Pesca degli stabilimenti balneari di arma e dell'associazione Running Free Arma Taggia domani alle 12.30 nella sala giunta di Palazzo Belvie a Sanremo il sindaco Alberto Bianchieri consegnerà una targa a Loris Revelli per il suo successo internazionale Juniors nel Danville Loris 17 anni di Sanremo ha raggiunto un risultato storico perché mai prima d'ora un italiano aveva conquistato la vittoria in una prova di Coppa del Mondo tra gli Juniors Appuntamento conclusivo per la rassegna Libri e scrittori sotto le stelle promossa dal comune di Perinaldo domani alle 21.15 nella sala comunale l'autore imperiese Ugo Moriano presenterà il suo ultimo romanzo Antiche amicizie e indagini sotto il sole di Diano si tratta di un giallo costruito con estrema eleganza e abilità nel sapere inanellare gli eventi tra flashback del passato e indagini presenti l'ingresso è libero veniamo alle nostre programmazioni questa sera alle 21.30 la nuova puntata di Punto d'Incontro sarà dedicata al mondo del triathlon a parlarci di questo particolare sport saranno in studio il presidente di Riviera Triathlon Danilo Moraglia la giovane promessa Vittoria Bergamini e Maurizio De Benedetti campione del mondo universitario del 1992 domani la festa della cucina bianca di Mendatica sarà invece protagonista della trasmissione a tutto ponente in onda alle 21 e di replica giovedì alle 14.10 queste come tutte le trasmissioni servizi e gli speciali sono poi anche scaricabili nel nostro sito imperietv.it bene ora ci occupiamo dell'autofiori poi del quadrometrio non si incontra non si incontra un cantiere sull'autostrada dei fiori nel tratto Savona a confine di stato per permettere una maggiore scorrevolezza al traffico e dei vacanzieri che scelgono la nostra regione per le loro vacanze e al traffico consueto del fine settimana chi si mette in viaggio può avere informazioni utili attraverso i pannelli e messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione ricordiamo che l'autofiori dispone di personale di pattugliamento e di pronto intervento che opera in sinergia con la polizia stradale durante tutte le 24 ore giornaliere per la gestione di ogni tipo di emergenza a chi si mette in viaggio si raccomanda comunque la massima attenzione e prudenza il quadramento è elaborato come sempre da ARPA al meteo Liguria vediamo quindi le previsioni per domani mercoledì 26 agosto deciso miglioramento che riporterà il sole su gran parte della Liguria qualche innocuo addensamento sarà possibile a Levante soprattutto nella seconda parte della giornata umidità su valori medio-alti venti da est o nord-est anche moderati a Ponente in calo fino a Brezze il mare molto mossa a Levante mossa a Ponente in rapido calo fino a poco mosso dopo domani giovedì 27 agosto tempo bello e stabile con il sole appena disturbato da modesti cumuli nell'interno umidità su valori medio-alti venti deboli variabili a regime di brezza sulle coste il mare sarà poco mosso ed è tutto grazie come sempre per la vostra attenzione l'appuntamento alle prossime edizioni se volete sul nostro sito imperiettv.it grazie ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti